Presidente Pasini, il 2016 per il tondo si è aperto come un anno in salita per poi migliorare. A che punto siamo al giro di buona di metà anno? Diciamo che il 2016 si è aperto con dei prezzi bassi sulla scia della seconda parte del 2015 dovuto anche al fatto che con l'assenza di licenze di importazione all'Algeria praticamente siamo rimasti orfani di questo mercato per circa un mese e mezzo o due. Da aprile c'è stata un'inversione di marcia, di tendenza, per cui i prezzi sono aumentati e devo dire che questo fa ben sperare per quello che riguarda un po' il proseguo di quest'anno. Sul fronte dei consumi come valuta l'andamento del settore delle costruzioni? Avete rilevato delle differenze tra Italia e Germania? I numeri dimostrano che il nostro è un paese che negli ultimi 5 anni il consumo di tondo è passato da 3 milioni di tonnellate a 1 milione e mezzo di tonnellate, a dimostrazione che il settore della costruzione ha perso circa il 35%, 36% è un dato ance. La Germania invece dimostra che nel 2005 anni fa il consumo era 1 milione e 6, oggi è 1 milione e 9, la dimostrazione è che i consumi reggono e come tale la Germania sta sui nostri prodotti, sta avendo un trend sicuramente positivo, anzi oserei dire che il 2016 si è aperto in maniera molto positiva. Riguardo ai vostri progetti in corso, come si sta evolvendo la realizzazione degli impianti in Algeria? Il Caleotto sta rispettando il piano industriale? Per quanto riguarda l'Algeria, noi le previsioni erano quelle di, dopo nel 2013 l'iniziativa di mettere un magazzino, che era un po' l'avamposto, un po' per quanto riguarda il gruppo in Algeria, pensavamo così di iniziare anche un progetto per quello che riguarda un po' la produzione di tondo percepimento armato. A questo momento abbiamo congelato questo progetto anche perché l'Algeria sta vivendo un momento sicuramente di difficoltà, dovuto essenzialmente al calo del prezzo del petrolio e del gas, dove il 90-99% delle risorse in questo paese derivano da queste due risorse. Naturalmente l'Algeria è un paese importante, l'anno scorso abbiamo esportato di più di 420 mila tonnellate e l'Algeria comunque è una parte predominante all'interno del bilancio di Feralpi. Caleotto, sapete che è un'iniziativa che abbiamo fatto insieme a Duferco e l'anno scorso siamo usciti con una leggera perdita, dovuto essenzialmente al fatto che siamo partiti proprio a fine giugno, in un periodo dove i prezzi erano in netto ribasso, però confidiamo quest'anno comunque di arrivare alla linea di pareggio in maniera tale di poter fare tutti gli ammortamenti. Parliamo di profilati nave, l'ultima arrivata in casa Feralpi, a quando la ripartenza degli impianti? Profilati nave, dovremmo partire verso i primi di agosto, sapete perfettamente che questa è un'acquisizione che noi abbiamo preso dal concordato di Stefana, attraverso la nostra controllata calvisano vogliamo fare laminati mercantili e laminati speciali per profili un po' particolari, per cui l'iniziativa tutto sommato per noi ci stiamo scommettendo molto su questa iniziativa e speriamo comunque che all'interno del gruppo porti quelle marginalità che magari mancano un po' in altri prodotti. Il 2015 è stato un anno complicato per la siderurgia italiana, quali sono i principali elementi del vostro bilancio? Abbiamo diminuito, il nostro fatturato consolidato passa da 960 milioni di Euro a 920 con un calo del 5%, ma la cosa diciamo così è un po' il risultato netto, nella Olding abbiamo avuto una perdita di 1 milione e mezzo di Euro, mertra della siderurgica usciamo con 6 milioni e mezzo di Euro di perdita, per cui non è un anno certo soddisfacente, però l'EBIDA è comunque sempre alto, abbiamo un'EBIDA intorno ai 47 milioni di Euro, gli oneri finanziari si sono molto ridotti, siamo intorno ai 4 milioni, 4 milioni e 2, circa lo 0,5% sul fatturato e oltretutto investimenti siamo nel 2015 a 42 milioni e mezzo, dimostrazione del nostro gruppo che comunque investe sempre. Chi va a vedere i bilanci Feralpi vede sempre ammortamenti che si aggirano sempre nell'ordine di 39 milioni di Euro, siamo un gruppo che investe molto, ma non solo qui, ma un po' in tutte le nostre sedi.